Parlando di momento difficile, di crisi, diciamo che con questa primavera oltre al sole si intravede anche una luce positiva per l'economia retina. Dal suo punto di vista e quindi anche dal lavoro che svolge quotidianamente a contatto con gli imprenditori la Camera di Commercio Sereni, che cosa si può dire? Siamo a una fase di ripresa? Ma guardi, sicuramente ci sono dei segnali positivi che riguardano tutti i comparti per tutte quelle aziende che si trovano nella filiera dell'export, indipendentemente, ripeto, dal comparto. Parlare di ripresa forse è troppo presto, anche se poi dovremmo pensare a un'economia diversa rispetto a quella dell'ante crisi. Sicuramente la globalizzazione cambia e cambierà tanti parametri, ma l'importante è quello di aumentare la qualità della vita. Sicuramente segnali importanti ce ne sono, che lasciano bene sperare, non ancora sufficienti per farci dormire tranquilli, ma sicuramente ce la faremo.